Lo sai che il recupero è una delle parti fondamentali dell'allenamento? Oggi ti voglio parlare della parte più importante del recupero, cioè il sonno. Se sei un atleta mi puoi capire perfettamente perché, come me, suppongo, tante volte ti sei svegliato nel sonno con crampi o non sei riuscito a dormire bene. Se non sei un atleta ti voglio raccontare quella che è la mia esperienza. Devi sapere che io, prima di alzarmi e prima di andare a dormire, faccio costantemente, tutti i giorni, questi esercizi di allungamento che ti andrò a proporre in questo video. Questo perché? Perché se no effettivamente, per chi mi conosce lo sa, io zoppico. Ovviamente questo perché ho forzato, caccauto la mano molto sul corpo, sul fisico. È per questo che poi ultimamente ho incominciato ad allenarmi in maniera completamente diversa. Senza sovraccaricare di tensione il corpo, ma anzi cercando di risolvere le tensioni. Ora, questi due esercizi sono il pane quotidiano. Quindi voglio incominciare a dare proprio valore a questo strumento, allo strumento letto. E ti voglio proporre una mini serie di video degli esercizi da poter fare comodamente a letto. Per favorire il tuo sonno, per favorire il tuo recupero e per stare bene, per essere poi alla fine più sveglio. Da sdraiato, piegare la gamba destra, prendere con la mano destra la caviglia, ruotare il piede a martello e lasciare giù il ginocchio a scendere. Aspettare che piano piano il ginocchio destro si avvicini verso terra, senza forzare. Quindi non è un problema di altezza, uno basta che lascia così e il peso naturale a gravità il ginocchio scenderà. Piano piano. Quello che ti ricordo è sempre non andare oltre i 20 secondi. Per contare i 20 secondi, banalmente si fa 1.1, 1.2, col 1.000 si intende già un secondo. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e così via fino a 20. Fatti i 20 secondi si passa dall'altra parte. Stessa cosa. Ovviamente come ci arrivi non è un problema. L'importante è che riesci a, diciamo, ad ottenere la posizione e un po' a mantenerla. Allora, come vedi qua c'è uno molto più teso. Poi in realtà ti potresti trovare anche in questa posizione qua. Va bene, va bene, non è un problema. È un esercizio che genera una leva naturale. Quindi, ovviamente, rilascia tutte le fasce muscolari che passano dentro il bacino. E in più va a fare leva sullo psoas, su vari muscoli che vanno e si attaccano sulla parte, diciamo, lombare della schiena, la parte bassa della schiena. In questa maniera diminuiscono molto il carico. 20 secondi, respiro lento e profondo. Non devi fare nulla, devi solo aspettare piano piano che la gamba da sola scenda. Non devi spingerla tu verso il basso. Non è il punto di arrivo, ma è quello che devi riuscire a fare, è rilassare. L'esercizio è la farfalla. Quindi, congiungo le piante dei piedi e le metto a contatto. Stessa cosa. Rilasso. Rilasso. Questi esercizi li puoi fare senza coperte o sotto le coperte. Io la maggior parte delle volte lo faccio sotto le coperte, però per evidenti motivi di immagine non riuscivo poi a comunicarti come era l'esercizio. Indovina come era l'esercizio. Quindi, in realtà, anche le coperte aiutano a fare una specie di peso, anche se sono leggere, però ti aiutano a favorire l'intenzione di abbassare. L'importante, e dico, è che tu non ti sforzi a farlo, perché è proprio un concetto. Noi dobbiamo trovare rilassamento e fa scorrere energie. Molte tensioni le ritroviamo proprio sul bacino. Sciogliendo il bacino andiamo a sciogliere pure la parte alta dello stomaco, un sacco di tante cose. Noterai che la tua pancia parlerà durante questi esercizi. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, così via, fino a 1.020. Dopodiché, sempre molto pianamente, ti puoi anche aiutare con le mani a chiudere, perché se hai problemi, se ti fa male. Finito questo, ricominci da capo. Sequence. Quindi, gamba destra dietro, piede si dice a martello, cioè l'interno, questa parte qua del piede, deve stare verso il basso. e rilassiamo così. La mano destra aiuta a mantenere caviglia, piede, in questa posizione qui. La mano sinistra la puoi lasciare giù o anche favorire a sentirti lo stomaco. 20 secondi, 20 secondi dell'altra parte, 20 secondi. Io dico, in genere io lo faccio, dipende come mi sento, due volte. Se senti che hai dolore, e se senti che sei teso, lo fai finché, finché puoi. Io spesso mi sono addormentato in queste posizioni, tanto poi, da solo poi ti vedrai che non le mantieni. Tenderai, neanche te ne accorgerai, a levarti la posizione, a uscire dalla posizione. Buona giornata. Buona giornata.